La notizia stamattina me l'hanno data i miei clienti quando siamo andati a prendere il caffè al bar. La Dea Bentata si è fermata a Formicola, la lotteria Italia ha infatti regalato ben 100.000 euro ad un cittadino probabilmente di Formicola che quasi certamente gli cambierà la vita. Il talloncino del biglietto, eccolo in mano alla titolare del negozio, la signora Maria Cristina Monaco, era stato acquistato nell'unica rivendita del comune dove è poi uscito il premio su appena 20 biglietti venduti. Sorpresa anche la stessa titolare quando ha saputo della vincita nella sua rivendita. La notizia stamattina me l'hanno data i miei clienti quando siamo andati a prendere il caffè al bar e sono stata strafelice soprattutto perché in un paesino di 1200 anime non si era mai verificata una cosa del genere avendo avuto l'attività per 32 anni. È la prima volta signora che si registra così una vincita così alta? Sì, per la lotteria Italia è la prima volta una somma così alta. Pensa che il fortunato sia di formicola? Al 90% è una persona del posto, dovrebbe essere. In particolare perché sapendo i miei clienti, voglio dire al 90% dovrebbe essere una persona del posto. Me lo auguro e sono veramente con il cuore, mi auguro che sia una famiglia che ne ha veramente bisogno e che posso regalargli in questo periodo particolare della nostra vita di tutti quanti un sorriso. Da Formicola è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it